Andrea Mezzano, vicepresidente del gruppo di protezione civile Salasà San Ponso, una giornata molto particolare all'interno della Segre delle Rane 2022. Hai detto bene, la giornata sembra che tenga per il meglio. In collaborazione con l'AIB di Prascorsano abbiamo organizzato e con un professionista pompiere Armando, abbiamo organizzato questa giornata in carico alla festa della Sagra delle Rane per i bambini. I bambini verranno qui oggi pomeriggio, tempo permettendo, proveranno a spruzzare con una lancia un po' d'acqua cercando di centrare alcuni obiettivi che metteremo poi nel prato adiacente alla pompa. Una pompa che è del gruppo storico dei Vigili del Fuoco di Salasà, a mano, quindi verrà usata a mano. Andrea, quanto è importante riuscire a coinvolgere le nuove generazioni e far capire l'importanza anche del rispetto di ciò che ci circonda? È importante perché qui, come ho detto prima, abbiamo un reperto storico per quanto riguarda il corpo dei Vigili del Fuoco di Salasà. Far conoscere loro la storia è importante, far conoscere il presente che tuttora è la protezione civile. In collaborazione questa volta siamo riusciti a coinvolgere anche l'AIB di Prascorsano che ci ha aiutato con il rifornimento d'acqua, protezione civile di Salasà, protezione civile di San Ponso. Far conoscere al territorio che esistono queste realtà permetterà anche un ricambio delle persone perché noi abbiamo già raggiunto un limite di età già importante ed è giusto che i giovani sappiano che esistono queste realtà e pian pianino si approcciano e si avvicinano e conoscono quali sono gli obiettivi che devono raggiungere poi col tempo. Ancora una cosa, arriviamo a questa sagra, a questo momento importante dopo due anni di pandemia. Quanto secondo te, che sei anche amministratore comunale, è importante essere tornati a questa socialità? Credo che le immagini che avete fatto in questi giorni parlano da sole. Viaggiano con il capannone pieno tutti i giorni, tutte le sere. La gente viene, passeggia. Ieri c'era il pianone che c'era i trattori d'epoca. Quindi credo che la gente abbia voglia di uscire, mantenendo e cercando nel limite del possibile ancora purtroppo di rispettare alcune regole che sono fondamentali e che ci permettano poi tra un mese, due, agosto, settembre di procedere con questa libertà. E soprattutto penso che quelli che abbiano sofferto molto, per ritornare al discorso che abbiamo iniziato all'inizio, siano i piccolini. La scuola a distanza, gli asili chiusi, barricati in casa. Oggi con una giornata così, vedere poi i bambini che si divertono a fare questa operazione, andare a cavallo, giocare a pallavolo. Credo che siano le condizioni migliori per affrontare un inizio di festa per la Sagra delle Rane. Grazie ancora alla collaborazione tra i gruppi prascorsano Salasse e San Ponso, i gruppi comunali, la Proloco di San Ponso. Si è potuto organizzare questa festa che credo a tuttora stia andando per il verso giusto. Quindi un bocca al lupo a tutti. Grazie mille.